Ciao a tutti, oggi vi farò vedere una piccola sequenza da ripetere semplicemente su una sedia, su una panchina. Ok, ci posizioniamo sul bordo della sedia, andiamo ad appoggiare la schiena, teniamo bene l'addome contratto e la schiena sostenuta, mani che afferrano la sedia, inspirando ed espirando portiamo un ginocchio verso il busto e alterniamo con la sinistra. Ripetiamo l'esercizio per 20 volte, pausa poi di 30 secondi, alterniamo con un altro esercizio, con un movimento di bicicletta, sempre inspiro ed espiro, lo ripeto per 20 volte, destra e sinistra, appoggio, pausa di 30, ripeto l'esercizio precedente, inspiro ed espiro, quando porto il ginocchio verso il busto, mi fermo per 30 secondi, ultima volta il secondo esercizio e stop, mi posiziono con la schiena dritta, mani appoggiate sulla sedia, inspirando ed espirando scivolo con le mani sulla sedia e ripeto l'esercizio tre volte per 20. Ok, da qua andiamo ad appoggiare le mani sulla sedia, solleviamo il bacino, ginocchia piegate, spingo il bacino verso l'alto e manteniamo un attimo la posizione, inspirando ed espirando. Sposto poi il peso sulle braccia, guardo bene l'allineamento delle maniche sotto le spalle, inspirando vado a piegarmi sui gomiti ed espirando vado a stendere e ancora, ripeto, due, tre, continuando così tre volte per 20 con una pausa di 30 secondi, mi riposiziono dopo aver fatto la pausa, di nuovo nello stesso esercizio e inspiro, andiamo a sollevare il ginocchio verso l'alto ed espiro, appoggiamo e ripetiamo, destra e sinistra, alternando, sempre tre volte per 20. Grazie a tutti, ciao! Grazie a tutti!